Durante un controllo alla circolazione stradale, i carabinieri della stazione di Messina Giostra hanno arrestato in flagranza di reato un giovane messinese già noto alle forze dell'ordine per resistenza a pubblico ufficiale. Durante il controllo sulla via panoramica dello stretto, i militari dell'arma hanno intimato l'alt a un'utilitaria che stava viaggiando a velocità elevata in direzione del centro città. Invece di rallentare e fermarsi, il conducente ha cercato di sfuggire alle forze dell'ordine mettendo in pericolo l'incolumità dei carabinieri preposti al controllo e degli altri automobilisti e pedoni presenti sulla strada. Fortunatamente, grazie alla pronta reazione dei militari e all'intervento delle altre pattuglie nelle zone vicine allertate dalla centrale operativa, il fuggitivo è stato rintracciato. L'uomo ha abbandonato l'auto nei pressi di una chiesa e ha cercato di continuare la fuga a piedi, ma è stato inseguito e bloccato dai carabinieri. Successivamente è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Durante gli accertamenti successivi è emerso che il giovane aveva guidato l'auto senza possedere la patente in quanto non l'aveva mai conseguita ed era già recidivo nel biennio precedente. Inoltre, l'utilitaria su cui viaggiava non era coperta da assicurazione. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arrestato è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione. La misura è stata presa per garantire la sua presenza durante il procedimento giudiziario.